Vuoi tornare in forma e rimodellare il tuo corpo in poco tempo? Vuoi ridurre gli inestetismi della cellulite, migliorando la circolazione sanguigna nello stesso tempo? Vuoi bruciare i grassi in eccesso? Ora si può! Siamo orgogliosi di presentarvi le Scarpe Fitness, campioni di vendite negli Stati Uniti, le uniche che ti aiutano a perdere peso e a ritornare in forma. Non sarai più costretto ad effettuare snervanti esercizi fisici per ridurre il tuo peso. Le Scarpe Fitness sono progettate per ridurre gli inestetismi della cellulite, migliorando la circolazione sanguigna, a rimodellare il tuo corpo e offrirti una buona postura. Tutto questo grazie alle Scarpe Fitness. Se sarai uno tra i primi 30 che chiameranno, riceverai le Scarpe Fitness a un prezzo eccezionale, addirittura con uno sconto pari al 50%. Ma ricorda questo solo se sarai tra i primi 30 a ordinare la perfetta soluzione per un corpo in forma con le Scarpe Fitness. Finalmente potrai dire addio a faticosi esercizi, a diete ferree, grazie alle eccezionali Scarpe Fitness. Tutto quello che faccio è indossarle, allacciarle e camminare. Mi hanno aiutato a tonificare le gambe e altre parti del corpo, come se andassi in palestra ogni giorno. Le Scarpe Fitness hanno un design rivoluzionario. La suola presenta una serie di strati morbidi come cuscinetti che attutiscono l'impatto con il terreno. Per un minore impatto per caviglie e ginocchia, con la massima aderenza alla superficie potrai tonificare polpacci, cosce, glutei, dorsali, addominali. Le Scarpe Fitness puoi indossarle in ogni momento della giornata, durante i lavori di casa, in palestra, a scuola, quando vai a fare la spesa. Per avere una forma più tonica e attraente, la soluzione è una. Le Scarpe Fitness. Ricorda che la loro speciale suola regala sempre preziosi centimetri in altezza. Queste scarpe mi permettono di bruciare calorie semplicemente vivendo la quotidianità. Con le Scarpe Fitness è come se andassi in palestra ogni giorno. Le indosso in qualunque situazione. Allora, cosa stai aspettando? Chiama ora e ordina subito le tue Scarpe Fitness. È una grande novità. Ti aiuteranno a riacquistare il tuo peso forma, a bruciare le calorie in eccesso e ad eliminare l'adipe di troppo. La tua circolazione finalmente migliorerà e ti sentirai più alto indossandole. Potrai portarle con te in borsa e averle sempre a portata di mano. Tutto questo grazie alle Scarpe Fitness. Ma aspetta, c'è di più. Se sarai tra i primi 30 a chiamare, riceverai le famose Scarpe Fitness a un incredibile prezzo. Solo per te uno sconto pari al 50%. Ma ricorda, questo solo se sarai tra i primi 30 a ordinare la perfetta soluzione per un corpo in forma con le Scarpe Fitness. I nostri operatori saranno lieti di fornirti altri preziosi consigli per mantenerti in forma in modo facile ed efficace. Prendi al volo questa incredibile occasione e prenota subito le tue Scarpe Fitness e visita il nostro sito che vedi in sovrimpressione. Durante la gravidanza ho preso davvero molti chili. Cercavo un modo facile e dolce per tornare in forma e non sapevo come fare. Poi un'amica mi ha parlato delle Scarpe Fitness. Le ho acquistate e ho iniziato a indossarle. Per andare al parco, per passeggiare, persino per lavorare. Sono estremamente comode e mi hanno aiutato a rimettermi in forma. Appena le ho comperate, sarò sincera, non credevo potessero realmente migliorare la mia forma fisica semplicemente indossandole e camminando. Ma adesso sono riuscita a sentirne i primi benefici. Ho sempre sofferto di disturbi alle ginocchia e alla schiena durante le camminate. Poi mia moglie mi ha regalato un paio di Scarpe Fitness e adesso sto meglio. Fanno lavorare i muscoli, inclusi quelli addominali, dei glutei e delle gambe. Nel giro di due mesi mi sono rimessa in forma. Vuoi tornare in forma e rimodellare il tuo corpo in poco tempo? Vuoi ridurre gli inestetismi della cellulite migliorando la circolazione sanguigna nello stesso tempo? Vuoi bruciare i grassi in eccesso? Ora si può! Siamo orgogliosi di presentarvi le Scarpe Fitness, campioni di vendite negli Stati Uniti. Le uniche che ti aiutano a perdere peso e a ritornare in forma. Non sarai più costretto ad effettuare snervanti esercizi fisici per ridurre il tuo peso. Le Scarpe Fitness sono progettate per ridurre gli inestetismi della cellulite migliorando la circolazione sanguigna, a rimodellare il tuo corpo e offrirti una buona postura. Tutto questo grazie alle Scarpe Fitness. Se sarai uno tra i primi 30 che chiameranno, riceverai le Scarpe Fitness a un prezzo eccezionale, addirittura con uno sconto pari al 50%. Ma ricorda questo solo se sarai tra i primi 30 a ordinare la perfetta soluzione per un corpo in forma con le Scarpe Fitness. Finalmente potrai dire addio a faticosi esercizi, a diete ferree, grazie alle eccezionali Scarpe Fitness. Sono riuscita a perdere peso senza alcuna fatica. Le Scarpe Fitness mi hanno aiutato a tornare in forma. Mi sento decisamente molto più in forma adesso. Finalmente ho raggiunto proprio quello che volevo. Tutto quello che faccio è indossarle, allacciarle e camminare. Mi hanno aiutato a tonificare le gambe e altre parti del corpo, come se andassi in palestra ogni giorno. Le Scarpe Fitness hanno un design rivoluzionario. La suola presenta una serie di strati morbidi come cuscinetti che attutiscono l'impatto con il terreno. Per un minore impatto per caviglie e ginocchia, con la massima aderenza alla superficie, potrai tonificare polpacci, cosce, glutei, dorsali, addominali. Le Scarpe Fitness puoi indossarle in ogni momento della giornata, durante i lavori di casa, in palestra, a scuola, quando vai a fare la spesa. Per avere una forma più tonica e attraente, la soluzione è una, le Scarpe Fitness. Ricorda che la loro speciale suola regala sempre preziosi centimetri in altezza. Allora, cosa stai aspettando? Chiama ora e ordina subito le tue Scarpe Fitness. È una grande novità. Ti aiuteranno a riacquistare il tuo peso forma, a bruciare le calorie in eccesso e ad eliminare l'adipe di troppo. La tua circolazione finalmente migliorerà e ti sentirai più alto indossandole. Potrai portarle con te in borsa e averle sempre a portata di mano. Tutto questo grazie alle Scarpe Fitness. Ma aspetta, c'è di più. Se sarai tra i primi 30 a chiamare, riceverai le famose Scarpe Fitness a un incredibile prezzo. Solo per te uno sconto pari al 50%. Ma ricorda, questo solo se sarai tra i primi 30 a ordinare, la perfetta soluzione per un corpo in forma con le Scarpe Fitness. I nostri operatori saranno lieti di fornirti altri preziosi consigli per mantenerti in forma in modo facile ed efficace. Prendi al volo questa incredibile occasione e prenota subito le tue Scarpe Fitness e visita il nostro sito che vedi in sovrimpressione.